a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovo video volevo dire una cosa grazie per il 1.019 e magari per il 1.014 iscritti ragazzi oggi bisogna arrivare no o domani arriviamo il 1.020 o il 1.030 superiore martedì dovete esserci live scrivete sotto i commenti lasciate un pollice con i su per il sostegno e basta stare dalla partita venga chi vuole essere salutato deve scrivermi sotto nei commenti così potrò salutarli cazzo no io sono più forte come cazzo ma come fa a vincere contro colt o i cappelli mi sono tagliati ragazzi meno 5 cazzo me lo proviamo a schiena un brollo di schiena proviamo il crew non costa niente ah ragazzi volevo dire una cosa nell'altro video che farò scrivete in questi commenti assolutamente quale brollo devo usare perchè io voglio fare un video e i miei i miei iscritti aspetta come i miei iscritti no i miei fanno perché cos'è o dire questo questo parco i miei i miei iscritti ma come posso dire ragazzi non so i miei iscritti vabbè ci pensiamo dopo lo scrivere o i miei no i miei fan no ma perché i miei fa i miei iscritti del club no Ecco intanto volevo dire Volevo fare come si chiama un video Che voi dovete consigliarmi Dovete dirmi quale brawler usare Ma dovete scrivere sotto i commenti qua Ok Mi fido in voi Perché voi siete Top Raga cresciamo questo canale Fin che arriviamo Ciao Volevo massacrarmi Eh ma dai Quella la voleva fare Oh siamo con i freni Che cazzo vuole da me quella Meno 2 Grazie fortuna E raga io da tanto che non trovo nessun brawler C'ho la fortuna brutta Ah si io volevo Entrate nel mio Nel clan Ma siamo già in 71 Ah matto Fermato Ora stavolta usiamo Eh sì ecco come Nella Come quell'altro video che ho appena fatto Ho caricato oggi E ora massacra tutti Ragazzi arrivo ai 1100 iscritti In una settimana È brutta Curro Cacchio Sp problemi io già non lo sapevo, ma perché queste cazzate? ecco è brutto lui, mettiamo me 3.400 truffei ciò a belì il noice and a brown raga, ah sì, consigliatemi un altro gioco che posso portare nel canale perché sempre, come si chiama? come si chiamava? ecco perché ogni volta porto Bruce a Backlash Royale poche volte ma consigliatemi qua sotto, quale gioco posso scegliere? una molto bella con Backlash Royale una serie, una nuova serie e così almeno il canale avrà più lo si chiamano nuovi video invece di Bruce a Backlash Royale Bruce a Backlash Royale Bruce a Backlash Royale raga io non ho in questo video ho ammazzato una persona raga voi dicete forse voi dicete oh perchè Black04 007 fa sempre video di 6 minuti 7 minuti è vero perchè lo faccio anch'io? beh sì perchè lo faccio anch'io? non lo so o solo per gli spazio? beh potrebbe vabbè vabbè lì aggrilai ok raga ora più uno yeah no aspettate no apriamo vediamo cosa abbiamo 30 manuette 4 più 4 in legge di pocio più 5 in legge di bo di bo ora andiamo a potenzial bo e lui ma se zitto vabbè raga ora posso anche concludere il video ma raga iscrivete ora il canale lasciate un bel like per il mi sostegno condividete il video con i vostri amici e bella ragazzi